Sì sì, di nuovo insieme per la nostra rassegna stampa eccezionalmente oggi dedicata in particolare alle elezioni americane che hanno visto il trionfo del candidato repubblicano Donald Trump, andiamo adesso sui quotidiani per vedere come hanno titolato questa mattina, ovviamente parzialmente sorpresi dal voto statunitense per il Corriere della Sera, possiamo vedere in prima pagina il duello Stato per Stato nel voto statunitense, finale di una campagna avvelenata, ultimo attacco di Trump sui sondaggi che diceva truccati, Clinton al seggio assieme al marito, tanti alle urne sento il peso della responsabilità, questo era il titolo del Corriere della Sera, un paese ferito in cerca di tregua, scriveva Beppe Severgnini e il Corriere della Sera inoltre in attaglio basso da l'ultimo addio a Veronesi che è morto a 90 anni, rivoluzionò il trattamento del cancro al seno, ci ha insegnato che il tumore si può sconfiggere, è morto ieri sera nella nostra casa milanese, aveva 90 anni, ha speso la sua vita per la ricerca e la cura dei tumori insegnando che il male si può sconfiggere sul Corriere della Sera un viriolettato che lo riguarda, credo nella immortalità che è data dalle idee, quanto maggiore è il contributo di innovazione che portiamo, tanto più il nostro pensiero continuerà a vivere. I nostri geni ci portano ad essere buoni, l'uomo ha i sentimenti, questo è il pezzo proprio di Umberto Veronesi e poi il sindaco di Milano Sala, ero malato, mi ha protetto, è cambiato la vita. Dal Corriere della Sera passiamo invece a Repubblica che titolava testa a testa fino all'ultimo, che sottolinea ulteriormente la sorpresa di questa mattina per il voto, anche perché Repubblica dava come favorita Clinton avanti su Trump, ma è duello voto per voto, negli stati chiave per la vittoria, la candidata democratica pronta a lavorare con umiltà per ricostruire il nostro paese, il Taekwondo invece è sempre all'attacco, questa sfida è irregolare. Ed ancora invece da Repubblica su il messaggero che titola l'America in bilico, meglio titolava, visto che adesso sappiamo che Donald Trump è il Presidente degli Stati Uniti in America, affluenza, boom, file ai seggi per la Casa Bianca, servono 270 grandi elettori, la sfida finale tra il sistema e l'antisistema, il pezzo di Giuliano da Empoli, gli Stati Uniti al voto, i primi dati della notte danno un testa a testa fra Clinton e Trump, al Taedena in Florida l'ex first lady in vantaggio in Ohio, respinto il ricorso del Tycoon, la democratica, donne immigrati e minoranze, l'esercito di Hillary, mentre il repubblicano, bianchi, operai disoccupati, la forza del Tycoon che a quanto pare hanno fatto la differenza, l'analisi dalla fede al fisco, ecco cosa cambia per l'economia, l'analisi di Osvaldo De Paolini, la politica estera, Mediorente, Cina e Russia, commercio in odi da affrontare. In taglio basso sul messaggero l'addio a Veronesi, l'oncologo che si è spento a 90 anni le sue battaglie politiche e civili. E poi ancora un'altra notizia sul messaggero, una svolta storica, la consulta dice sì, i figli potranno avere anche il cognome della madre e prevale la volontà dei genitori. per i coniugi residenti a Genova, che ieri hanno ottenuto una storica pronuncia da parte della Corte Costituzionale, l'Italia era un posto molto strano. Italiano lui, l'italo-brasiliano a lei, chiedevano di poter applicare un principio che in Brasile è la norma, ovvero quello di ottenere anche il cognome della madre, adesso si potrà fare anche in Italia. Vediamo ancora brevemente un'altra prima pagina, questo è il tempo alla scoperta dell'America. Nella notte gli statunitensi hanno scelto il successore di Barack Obama dopo una campagna violenta in stile far west, Clinton in vantaggio su Trump. Questo era quanto evidenziava il tempo questa notte, sappiamo insomma invece stamattina come è andata con il voto che ha sorpreso i più Donald Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Storico via libera della consulta, anche qui il cognome della madre per i figli, si sottolinea la pronuncia della consulta sul cognome per i figli. L'oncologo Sandro Veranesi muore a 90 anni, anche qui l'ultimo saluto ad una personalità importantissima in Italia, una vita per la lotta al cancro, il pezzo per il tempo e affirma Vittorio Feltri. E poi l'ultima di Berdini sull'impianto romano della Roma, io assessore non voglio lo stadio. Continuiamo però la nostra segna stampa con l'approfondimento dedicato all'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, ritorniamo allora sul web per andare a vedere su rainews.it come è stata affrontata la questione. Trump alla Casa Bianca è uno schiaffo all'establishment, l'America ha scelto sconfitta la democratica Hillary Clinton che telefona per concedere la vittoria. Esito clamoroso della lunga cavalcata elettorale, il tycoon ottiene la maggioranza dei grandi elettori, diventa così il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America e dice vi prometto che non vi deluderò, faremo un lavoro eccellente, ha detto Trump nel primo discorso dopo la vittoria. Spero che alla fine dei 4 anni e forse anche degli 8 anni direte che veramente valeva la pena lavorare per questo e che sarete orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Ritorniamo invece adesso su ansa.it per le reazioni dal mondo dopo l'esito del voto americano. Iniziamo con Federica Mogherini, l'alto commissario su Twitter dopo l'elezione di Donald Trump, ha detto i legami tra Unione europea e Stati Uniti sono più profondi di qualsiasi cambiamento politico. Continueremo a lavorare insieme riscoprendo la forza dell'Europa. Tra i primi a parlare i russi con il presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, Konstantin Kosachev, si concretizza una piccola speranza per migliorare i rapporti russo-americani, anche se Trump sarà frenato dal congresso a trazione repubblicana, ma aggiunge meglio rispetto alla disperante prospettiva di un'America guidata dalla Clinton. Vladimir Putin si congratula con Donald Trump per la vittoria e si augura che i rapporti russo-americani possano uscire dalla crisi. Il presidente russo, che ha inviato un telegramma al nuovo presidente statunitense, si dice sicuro che il dialogo tra Mosca e Washington, basati sul rispetto reciproco, rispondano agli interessi dei due paesi. Il Parlamento europeo, il presidente del Parlamento, Martin Schulz, ha affermato che con Donald Trump presidente sicuramente la relazione transatlantica diventerà più difficile. Schulz, intervistato dal primo canale pubblico tedesco ARD, ha fatto un parallelo con le grandi paure suscitate da Ronald Reagan e ha premesso che il sistema degli Stati Uniti è forte abbastanza per reggere un presidente Donald Trump ed integrarlo dopo l'ufficialità. Nel congratularsi con Donald Trump, il presidente del Parlamento europeo Schulz ha espresso la speranza che rispetterà i diritti e le regole fondamentali. Questo è un momento difficile nelle relazioni USA-Unione europea, ma Trump merita pieno rispetto alle campagne elettorali, sono cosa diversa dalla politica, ha aggiunto e spero che ora ci sia un ritorno alla razionalità che Trump si attenga alla Costituzione americana. Noi, a concluso, siamo pronti a collaborare. In Francia, invece, dopo il Brexit, dopo l'elezione di Trump, l'Europa non si deve piegare, l'Europa deve essere più solidale, più attiva e più offensiva. Non dobbiamo abbassare la testa, serve un'Europa più solidale, non dobbiamo chiuderci in noi stessi. In questo modo, nel mondo di incertezze, la Francia e l'Europa avranno oggi il compito di rassicurare. Queste parole sono del ministro degli esteri francese, Jean-Marc Hérault, intervistato in diretta su France 2. Gli Stati Uniti ha aggiunto, sono i nostri alleati, vogliamo continuare a lavorare con loro. Se i risultati saranno confermati, ci congratuleremo con Donald Trump. In un tweet, invece, Jean-Marie Le Pen ha detto, oggi gli Stati Uniti, domani la Francia, commentando i primi risultati delle elezioni statunitense. Il fondatore del Front National parla del formidabile calcio nel sedere ai sistemi politico-mediatici mondiali e anche francesi. I popoli hanno bisogno di verità e coraggio, brava America, concluso il fondatore dell'estrema destra francese, aggiungendo poi un laconico, viva Trump. E con questo tweet ci fermiamo, piccolo break per noi, in seguito andremo ad occuparci in particolare delle notizie che riguardano Roma ed intorni. A fra poco.